Signori iniziamo? Buongiorno a tutti, benvenuti. Questa mattina abbiamo il piacere di inaugurare il nuovo camper service, un parcheggio predisposto, pensato e dedicato alla sosta per i camper. Un'opera che da molti anni doveva essere completata e un'opera strategica proprio a servizio del turismo. Questo tipo di intervento è stato fatto in un'area abbastanza vasta, prospicente proprio alla Laguna dell'Usenzo e infatti si è pensato anche ad un accesso diretto delle persone che scenderanno dai propri camper alla Laguna dell'Usenzo in modo da avere tutte le possibilità di raggiungere il centro storico sia di Chioggia che di Sottomarina, passeggiando in un bene della nostra città, quella che è la passeggiata più bella di tutta la nostra città. Vi parlo un po' delle opere che sono state fatte per la realizzazione di questo parcheggio che prima di diventare camper service era un parcheggio come questo dove siamo.